ehi vuoi vedere anche tu un game in cui il masterino budino va mid lane e cerca con le blank di dare la caccia al jungler si non è quello quel video perché perché siamo support fillati ci ho provato ad andare mid lane ho messo mid support so che dis magari se la fa e non ce l'ho fatta inizia questa serie su youtube appunto caccia al jungler da support come si fa questa cosa è tosta è tosta adesso adesso la capiamo adesso la capiamo come si dà la caccia al jungler da support allora è ecarine jungler quindi proprio dargli la caccia potrei prendere un pike goloso è un buon modo per dare la caccia al jungler pike dei botti del brutto c'è mastery sarebbe buona morgana però vabbè dai prendi a borgana non è il modo migliore per dare la caccia al jungler borgana però che fai te ne privi quindi faremo due serie caccia al jungler e proteggi la dc kiana addirittura unbelievable unbelievable reaction io devo andare in bagno a fare pipì quindi non ci saranno tagli in questi video facciamone rune per favore proteggi la dc vediamo quanti video riusciamo a fare di proteggi la dc o caccia al jungler anzi sai cosa potrei mettere film no l'obiettivo è fare caccia al jungler scusate sto pensando anch'io cosa vorrei fare in questa in questi video lo sto pensa posso pensarlo anch'io a no e così 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 verità qui metterei questo aerei così aerei io plani qui metterei questo qui metteremo la velocità d'avvicinamento forse perché se lo impegnisco non serve più di tanto c'è nel senso biscotti velocità oggetti dai un po di questo un po di quello cos'hanno serafina quindi magari un po di resistenza magica piuttosto c'è let's go ragazzi immagino il montaggio vado a fare pipì che cazzo non molto niente quindi vado a fare pipì e voi vedrete tutta questa parte in cui il budino va a fare pipì in slow motion let's go grazie 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 chiediccio Signori, not good, quindi potrei dover resettare tutto da capo per la terza volta e rifare tutto da capo, nice. Oh, si è riconnesso invece, dove vai? Torna qua, tesorino. Eh, volevi, che sono scemo. Che abbiamo in squadra, che abbiamo contro? Allora, con la magia di montaggio, infatti avete visto che sono ricomparso proprio ora, qui, in questa posizione incredibile. Rischiaccio il tasto, non sono sicuro che abbia cambiato scena. Please, stai un dottor Nala di Pirate Code. Bello, mi piace. Non ho visto il proteggio maestria, non ho visto nulla. Sono molto ispirato da questa partita. Posso dire che è molto ispirante vedere questi partiti così pieni di emozioni, pieni di skills. Non c'è fama, dà la mano. Ah, contro maestria è inutile usare la Q perché tanto... Oddio. Andiamo via, andiamo via. Eh, caccia al jungler. Come faccio a dare la caccia al jungler? Come faccio? Non posso. Oh, questa è scema. Eh, va bene, credo. Ma cos'è successo? Ma... Ma... Cosa cacchio è successo? Quella Vane. Io andrei via, Raven. Cioè nel senso... Sei già a posto, no? Guarda, volevo raccogliere la sciaglia. Ehm, non credo. Era meglio prendere lo scudo perché questo sta continuando a pushare. E non ho... Saltino! E non ho modo per proteggerlo da Ekarim così per ora. Hmm... Eh, vedi, arriva, 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 arriva. Devo tenermi la cu per Ekarim nel caso. Tuck. Ho preso anche un minion, gonoso. Si diventa ricchi così. Quindi signori, se non lo sapete noi andiamo live tutti i giorni. Eh, vedi. Let's go, mi metto in mezzo. Eh, no, master. Non avevo lo scudo, l'avevo detto che non ce l'avevo. Cosa mi ha ucciso? Ah, il terzo attacco di Vayne. Ups! Io ho pure flashato. Mamma mia. Scandalo. Scandaloso. La ruota vietnamita dello scandalo. E non vi dirò che cos'è, non siete pronti. Cosa è successo? Eh, troppo. È rimasto troppo avanti. Ipinga? Cosa vuole? Cosa vuole? Che è successo? Cosa v'ho fatto? Non ho la chat attiva, quindi letteralmente non so cosa voglia da me. Nel dubbio. Posso mettere una war qui? Ah, ops. Che male che mi ha fatto. Mamma mia. Ops. A caccia di jungler? Oh no. Arrivo? Non ci credo. Incredibile. Una Kiana che fa una kill in un game. Unbelievable. Attenzione. Fiora contro Riven. Skilled matchup. Skilled matchup. Mastery, ragazzi, è un povero me che lo uso, è fuori forma, è incredibile, Budino. Praticamente è nulla cosmico con quel champ, sono riuscito a fare. L'ho preso. E niente, l'ho scudato un decimo di secondo più tardi rispetto a quello che avrei dovuto. Decimo di secondo più o meno. Ok, pinga noi. Pensavo di dover già andare, ma. Ok. C'è il drago, volendo. Doppio a pink lì dentro, perfetto. Io seguo Mastery. Dove stanno andando di bello? Ah, è cream top, è cream top. Drago, drago. Io lo faccio uscire. Let's go! Questo è un drago molto utile per tutti. Let's go! Goloso! Ottimo, ottimo. È cream top, drago. Si vola. Ciao, stronzetto. Non gli ho fatto niente, ma va bene. Let's go! Preso di nuovo. Cosa si fa su Morgana? È il mandato imperiale, credo. Non è rallentabile, stronzetto. No, questa volta no. Questa volta no. Non so dove sia, è, Karim. Ti proteggo, ti proteggo. Proteggi la DC, Budino. Si, segno il capitano. Proteggo la DC. Dov'è, Karim? Dov'è, Karim? Dov'è? Non è qui. Però se loro restano vuol dire che è vicino. Ma mint che Roma. Dov'è, dov'è? Fatevi sotto. Let's go, let's go. Ok, basta, basta. Ok. Basta, basta. Ma perché? Ma cosa mi pinghi? Sei un pazzo suicida. Proteggi la DC è un conto, ma guarda la DC che si suicida. Cioè, capisco essere propositivo, ma... Dall'essere propositivo a tuffarsi sotto torre senza vita, senza mana. Il passo non può essere così breve. Cioè, si è letteralmente buttato sotto torre senza mana. Sto solo rastrittando, Draven sveglia, non sto pushando. Let's go. Ok, posso andare. E dai, e dai. Qualche minion, me lo puoi lasciare, non ti devi preoccupare. Inutile che scrivi la chat disabilità. E' quello, vedi, che scrive. Eh, stupido idiota. Io tipo, eh, non ho la chat attiva. Gongolo, gongolo, gongolo. Com'era gongolo? Dotto? Eulo? Pisolo? Cucciolo? Mammolo? Ehm... Brontolo? Sfiziosolo? E golosolo? Come sarebbe golosolo? Mamma mia, mamma mia! Oh! L'attacco base al minion! L'ha esplosa, poi però ha dato l'attacco base al minion. Mossa OP. Ma not so worth, I believe, I think. Oh, mi ha spinto via. Non ha aspettato me, eh? Cioè, è un po' rimasto secco, ma... Oh, anima! Ottimo. Ottimo. Let's go! Oh, no! Come mi siamo messi qua? Uno, tre. A questo gli piace dei suicidarsi. L'ha fatto tutto bene, poi dà quell'attacco base al minion. Come è andata qua? Declimbio. Noi aspettiamo. Che dobbiamo fare? Ci rilassiamo? Aspettiamo. Guarda i danni che gli fa, ma sono tantissimi. Peccato. Cosa pinga? Cosa pinga? Cosa ti aiuto a fare cosa? A fare cosa? Cosa vuoi che faccio? Mi devo fare sotto torre? Ottimo! Perfetto. Bravissimo. Cioè, che devo fare io? Mi tuffo sotto torre e faccio cosa? Sono Morgana, comunque. Cioè, non ho... Cioè, nel senso... Non ho ancora la zona. Quando ho la zona... Ho flesciato. Qui ho sbagliato che sono arretrato. Non fosse arretrato sarebbe andata meglio. Colpa mia. Dov'è? Sì, vabbè, ma tu sei proprio stronzo, però. Cioè, t'ho messo lo scudo, puoi scappare. No, ci ritorna. E va bene. Che cattiveria, cioè... È un'azione bellissima, piena di emozionanti emozioni. No, ci torna. Ottimo. Mastri? Mastri? Cosa mi ha ucciso? Cosa mi ha ucciso? Cosa mi ha ucciso? Letteralmente, cosa mi ha ucciso? Madonna. Eh, Mastri. Cosa mi ha ucciso? Vorrei vedere il replay per capire... Ma sono confuso? No, 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 no. Qualcosa mi ha ucciso? Non capisco cosa. Bravissimo lui. Lui è bravissimo. Non lo metto in dubbio. Forse è un pochino troppo fuori di testa. Mamma mia. Lui è molto bravo. Molto fuori di testa, ma molto bravo. Dai. Ce l'hai in due secondi. Coraggio. Let's go. So che ce la puoi fare. Dai. Coraggio. Dai che sei fortissimo. Mastri. E va bene. Però il drago l'abbiamo fatto noi. So worth. Ma che è successo? Oh, l'assist. Non l'ho ripreso, però male male. Si salva, non credo. No, si è ritroffato in mezzo. Peccato. Quantità. Preferisco avere lo scuro più spesso a sto punto. E no, Imperial Mandate, direi. Ma l'Imperial Mandate. Molto goloso. Ma che stats mi dà in più? Più 15 potere magico. No, fa schifo allora. Il tradimento non arriva mai dai nemici. 19-12, ma noi abbiamo una comp che scala infinitamente meglio della loro, quindi. Ah, ma è 3-6-7-3. Ero rimasto al fatto che Riven stesse straperdendo. Quanto pare è sbagliato. Anticure? Anticure direi di sì. Ma lui la scioglie Riven. Io lui lo proteggo e lui fa tutto il lavoro. È molto bravo lui. È molto bravo. Quindi, non mi metterei troppi problemi. Quindi, io direi più che altro, let's go. Guarda come arretrano. Di fronte alla prepotenza innata del budino. Oh, guarda. Si sono chiuse fuori da sole dalla lane. Perfetto. Golosissimo. Si sono chiuse fuori da sole dalla lane. Vuoi continuare? Non credo. Sei pazzo? Va bene. Ti assecondo. Vuoi continuare ancora? No, dai, basta. Io colpirei questa. Così, da botto. De botto e de brutto. Oh, l'ho presa. Ok, venga. Ok. Non venga. Io andrei via. Così, peride. Così, peride, eh. Non lo so. Ma mi si sente troppo basso, forse. Io dico, quello che farei io. Poi, l'ho mancata. Abba era proprio scappata. Possiamo andare in base? Wait. Uhuhu. Eh, l'imperia mandate. Non è che mi faccia così impazzire, come ho detto. Venga botto. Viene botto. Non viene botto. Fanculo. Eh, sono solo. Sono solo stasera senza di te. Allora. Quasi quello che volevo che accadesse. Ma non proprio, ecco. Perfetto. Posso andare. Ma! Minion bastardi non mi fanno recollare. Arrivo mid. Oh, devo proteggerlo. Eh no, è andato avanti da solo. Oh, si è salvato. Ce l'ha salvato, me. Anticure. Eh, let's go. Devo salvarlo. Devo salvarlo. Devo. Questo è il mio carry. Ce ne sono tanti al mondo, ma questo è il mio. No, 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 no. Sì, 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 sì. Ok Ho avuto troppa paura Volevo mettergli l'exhaust a tutti i costi Volevo mettergli l'exhaust a tutti i costi Ma non mi ricapita una DC così strong Veramente incredibile Così Così Ma se tu resti fuori ciccio Come lo fa il drago Se tu resti fuori ciccio come lo smite il drago Non lo smite Non credo tu possa ecco Let's go Oh partita ribaltata Eh non importa L'anticure lo vorrei completo però E quindi Let's go andiamo in bot Dai Io non so come si sentirà questo video Quindi spero bene Se non si sente Vabbè dai Vuol dire che la prossima volta ci starò più attento Però sto parlando esattamente come parlo in live Quindi Devo seguire lui Devo seguire lui Proteggi il carry Proteggi il carry Zona e support è troppo importante Il support è un ruolo troppo importante Oh Andiamo qua Io proteggo il carry Che mi frega No 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 Oh Con i giusti aiutini Plug Questa Baron Sarebbe stato Baron Eh mi piace fare support Mi piace fare support Let's go Si salva la vita all'ADC Let's go Proteggi il carry Altro che andare a caccia Proteggi il carry Un ruolo semplice Efficace 3, 2, 1 Vai dai Ho ferite gravi a tutti eh Protect the carry Allora io mi metto qua Dai su Fatemi sotto Andiamo top Andiamo top Non ci andiamo Non ci andiamo Stiamo mint Stiamo mint Ma la cazza sono andati loro Ma cosa Ma cosa succede Io non lo farei Oh lui lo fa però Io non lo farei Lui si però Eh erano forse troppi Io dico Cioè Vabbè Allora Accettabile Per come ho giocato fino ad ora Non mi posso lamentare Però Amico Rilassati Stai troppo Cos'è questo Se prendo qua Cosa succede Niente Ah la roba sotto Scusate Volete vedere Oh Sono tutti morti Gridano un po' Ma nessun problema La ferite gravi prese Adesso una scelta tra questi Ehm Più danni Non abbiamo bisogno di più danni Abbiamo bisogno di lui che sopravviva di più Quindi Pietra lunare rinnovata direi Farlo sopravvivere È la cosa migliore Mi dai cooldown tu? Sì che me lo dai E allora Non sto buildando danni Sto buildando resistenze mie Anticure Oh Mi serve anche un po' di velocità Quindi prenderò anche l'oggetto che da velocità Ehm Let's go Macarena Ma si fa così Si fa così Si fa così Aaaaa Si fa così Si fa Dove cazzo stai andando? Ma dove cazzo stavo andando? Ho preso questo per sbaglio fratelli Cioè ho proprio pigiato su quel coso A cast di can Ehm Non c'è andare Non c'è andate Non c'è andate Non c'è andate Ma invece si sono in due Lo uccide Non lo uccide Eh c'è andato senza il suo support di fiducia Come lo salvo io da ste caccate qua? Come lo faccio salvare? Questo cos'altro da? Velocità abilitata Anche questo la dà Campione in frigo Non so Non è che lo shotta Però io Lo voglio tenere in vita Lo voglio E vabbè dai Master Riku pronto Peccato Non tiltiamo Ci siamo Dai 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 Stiamo dominando noi Noi abbiamo un late game Da paura Dai uccidiamolo Uccidiamolo Cos'è? Ma? Let's go Andiamo da lui Tu non avanzare Devo mettere una ward là Devo controllare che non abbiano wardato qui Oh Riven infatti Se ne vada signorina Riven Grazie Oh via 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 Oh pay attention Arriviamo Eh niente No no Arriviamo Arriviamo Niente il cazzo Allora signori È fattibile eh Fattibile Cosa cazzo succede? Ok Vedi perché io amo Morgana Quando uso Master Rie Perché è un champ broken con E Non ce la fa a chiudere Non ce la fa a chiudere Eh ti ho presa Eh non posso farci molto Oh carca boia Ok Cosa sto facendo un sacco di Ma? Ecco Perfetto Ma? 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 Chiara? Mi hai risparmiato? Grande Chiara? Eh se al posto che pingarmi Tu fossi un po' più attento A quello che ti succede intorno Eh Tipo che c'è Riven qui Guarda come gli la blocca Perfetta Oh Mamma mia Sono sorpreso da come sto giocando Non male direi Ah no Vabbè è finita È finita È finita È finita Eh Protect the carry Sono emozionato Non è durato tanto È stato bellissimo Ma ho protetto il carry Facciamo la protect the carry Facciamo i support Mi diverto un casino anche A zonarli Fare Cosarli Poi Morgana è fortissima Secondo me Morgana è fortissima A molti non piace GG Considerazioni Nice Non troverai mai più Un jungler Un ADC Così tanto forte Però è meglio che niente Però è meglio che niente Cioè questo è proprio un ADC Forte Un ADC Goloso Un game Eh 3-8 Mastery Cioè è bastato Proteggere il carry E fare il suo lavoro Detto questo Noi ci vediamo Noi ci vediamo su Twitch Tutti i giorni Quindi se volete Unitevi a noi Bella lì Bella là Bababai La mattina Poveriggio o la sera Poveriggio o la sera sicuro La mattina dipende dal giorno Nel senso Potrei essere fuori caso Oppure essere a casa Dipende Se sono a casa Ci sono A presto